Regali costosi, soggiorni gratuiti ma anche favori sessuali in cambio di provvedimenti giudiziari pilotati o raccomandazioni per superare l'esame di avvocato. Sono alcuni dei reati che emergono dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Potenza che ha portato all'arresto questa mattina del sostituto procuratore di Lecce Emilio Arnesano accusato di corruzione e abuso d'ufficio. Con il magistrato è finito in carcere anche un dirigente dell'ASL di Lecce, Carlo Siciliano, mentre sono stati disposti i domiciliari per l'ex direttore generale dell'ASL BAT ed attuale direttore dell'azienda sanitaria leccese Ottavio Narracci, per due dirigenti della stessa ASL, Giorgio Triani e Giuseppe Rollo e per l'avvocato Benedetta Martina. Divieto di dimora a Lecce infine per un altro legale salentino, Salvatore Antonio Ciardo. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza riguardano diversi episodi di corruzione di cui il magistrato sarebbe stato protagonista indirizzando in maniera favorevole i procedimenti a lui assegnati, ricevendo in cambio beni dagli indagati. Nelle carte della procura si legge dell'esistenza di un collaudato sistema di vendita delle funzioni giudiziarie per garantire favori a medici e dirigenti ASL, come nel caso di Ottavio Narracci, per il quale Arnesano si sarebbe impegnato in qualità di PM in udienza ad attuare una strategia processuale volta a far assolvere il direttore generale da un'accusa di peculato dinnanzi al Tribunale di Lecce. In cambio avrebbe ottenuto una barca di 12 metri acquistata a prezzo di saldo da un amico comune, il dirigente ASL Carlo Siciliano, soggiorni gratuiti e prestazioni mediche agevolate. Ma non è tutto. Tra le accuse rivolte al sostituto procuratore c'è anche quella di aver instaurato un rapporto corruttivo consolidato e duraturo con un avvocato, Benedetta Martina, adesso ai domiciliari. Il PM pilotava i provvedimenti in cui gli indagati erano assistiti dal legale, ottenendo in cambio prestazioni sessuali dalla donna. In un'altra occasione Arnesano avrebbe anche agevolato l'esame di abilitazione di una giovane collega dell'avvocato Martina, contattando un componente della commissione giudicante. Parallelamente ai provvedimenti cautelari, il GIP della Procura di Potenza, competente per i reati commessi dai magistrati del distretto della Corte d'Appello di Lecce, ha disposto il sequestro di una piscina finita al centro di un altro procedimento pilotato, di un'imbarcazione e di oltre 18 mila euro, in quanto ritenuti profitto del reato di corruzione.